clitopilus prunulus è un fungo che è considerato uno delle spie per eccellenza dei porcini tante volte lo possiamo trovare solitario o a volte con cresciuto in gruppetti di più esemplari nei periodi umidi in ambienti e boschi sia di conifere sia di latifoglie è una specie che possiamo trovare sotto la bette rosso come nei boschi di castagno piuttosto che di faggio caratteristiche principali di questa specie è l'avere una cuticola finemente vellutata e come ricoperta da una pruina biancastra che se noi ci appoggiamo il dito tende facilmente a scomparire se ne raccogliamo un esemplare noteremo come le lamelle sono mediamente fitte tendono ad essere debolmente decorrenti sullo stipite questo purtroppo è un esemplare un pochino più grandicello ma che è stato rovinato da delle condizioni di umidità uno dei suoi caratteri è che le lamelle quindi questa parte diventa di colore rosa con la maturazione perché le spore sono di colore rosa in questa specie quando raggiunge la maturità debolmente rosa un particolare che ci aiuta ad identificarlo è annusarlo portandolo al naso questa specie che è anche un fungo buon commestibile ma che va imparato a riconoscere dopo aver frequentato con attenzione un gruppo micologico ha un odore di pasta lievitata di farina fresca che la rende pressoché inconfondibile un odore molto gradevole prestiamo attenzione alla sua presenza nel sottobosco perché come detto è un fungo che è fruttifica negli stessi periodi negli stessi ambienti anche dei porcini sia in boschi di montagna sia in areale costiero o collinare e ci spostiamo veramente di pochi centimetri nel terreno per vedere come questa magia della nostra spia corrisponde alla realtà sotto al tronco di questo abete rosso ecco un giovane esemplare di boletus edulis fare la sua comparsa ben segnalato dal fungo spia e vediamo che sempre rimanendo in vista del fungo spia la nostra fungaia in questo caso di boletus edulis sembra essere più interessante del previsto pochissimi metri di distanza uno due esemplari poi spostandosi ancora un pochino ecco un terzo esemplare di porcino e proseguendo proprio su una linea come spesso e volentieri si verificano le fungaie un quarto panciutto esemplare nel nostro boletus edulis qui vediamo la fungaia che viene segnalata probabilmente ci sarà anche qualche altro esemplare nascosto nel nostro fungo spia o clitopilus prunulus questo colore biancastro colore delle lamelle bianche sporata inizialmente di colore rosa chiaro poi diventa rosa abbastanza intenso odore gradevole di farina cuticola ricoperta da questa pruina biancastra che è facilmente detersi le rimuovibile con le mani grazie a tutti grazie a tutti